C'è anche l'Associazione Dal Basso, affidataria dell'ex macelleria sociale d'Arzano, bene confiscato alla Camurra che la sera di martedì 19 aprile è stato devastato da un incendio appiccato probabilmente da chi non ha gradito che fosse sottratto alle mani dei criminali e riutilizzato a fini sociali tra le realtà beneficiari del sostegno logistico ed economico offerto dalla città metropolitana attraverso il Consorzio Sole per l'avvio e il proseguimento delle loro attività sociali. Grazie a questo supporto, malgrado il recente incendio, i volontari di Dal Basso potranno continuare nell'opera di costituzione della rete antica Morra che passa per la realizzazione di una biblioteca, di un teatro, di una sala di incisione e la conseguente attivazione di percorsi sociali e culturali. Sostegno economico dunque in base alle relative esigenze e logistico con l'allestimento di postazioni informatiche di lavoro. Radio Sian, che ad Ercolano porta avanti la sua battaglia di legalità proprio dagli appartamenti confiscati ai clan, Meti che invece si prende cura delle donne vittime di maltrattamenti, Novella Aurora che ha messo su una casa per disabili e Novoletta per Salvatore, l'associazione di Marano che opera nel nome del carabiniere ucciso a 20 anni il 2 luglio del 1982 per mano dei casalesi perché colpevole di non essersi piegato, a differenza di tutti i suoi colleghi, alla legge del clan. Sono queste alcune delle organizzazioni che hanno ritirato il benefit che consentirà di effettuare lavori di distrutturazione e di adeguamento degli stabili. La cerimonia di consiglia dei bonus, così costituiti, riservati appunto alle associazioni assegnatari di beni confiscati, si è svolta nella sala Marella Cirillo della sede di Piazza Matteotti, alla presenza del vice sindaco della città metropolitana, del presidente, nonché il sindaco di Casal Nuovo e del direttore del consorzio dei rappresentanti dei comuni aderenti e delle associazioni. Le risorse attribuite sono state rese disponibili da un fondo costituito dal compianto presidente della provincia di Napoli, Amato Lamberti, che ha condotto per tutta la sua vita una battaglia senza frontiere contro la camorra, anche attraverso la costituzione del consorzio sole, che ha per obiettivo proprio il recupero e il riutilizzo del patrimonio confiscato alla camorra a fini sociali e anche occupazionali, attraverso l'istituzione di cooperative sociali di giovani disoccupati. Il tutto evitando l'isolamento dei sindaci nella battaglia, spesso difficile dell'antimafia sociale e nella riassegnazione dei beni confiscati.